E' stato inaugurato a Stia il primo tratto della ciclovia dell'Arno. Al taglio del nastro ha partecipato tra gli altri l'assessore alle infrastrutture della regione toscana Vincenzo Ceccarelli. Il tratto della Sorgente è lungo 16 chilometri e fa da collegamento tra Stia e la zona industriale di Castel San Nicolò e tra Ponte a Poppi e Bibbiena dove si congiunge al tratto già realizzato. Si tratta quindi di una delle più belle ciclovie d'Europa perché darà l'opportunità di entrare in contatto e di gustare valori ambientali straordinari, valori di carattere paesaggistico ma anche storico-culturale. Basti pensare che saranno attraversati i centri storici di Firenze e di Pisa. In tanti hanno sfidato la pioggia per partecipare alla pedalata amatoriale di inaugurazione. Avere qui nel comune di Prado di Chiostia la partenza della ciclopista dell'Arno non è soltanto un grande orgoglio e vedete in che ambiente, in che contesto anche ambientale è infernata ma soprattutto sarà un'occasione di sviluppo come diceva l'assessore veramente fondamentale per questo territorio. Il sistema integrato una volta terminato avrà una lunghezza totale di oltre 400 chilometri e toccherà le province di Arezzo, Siena e Pisa e la città metropolitana di Firenze. Lungo il percorso sono presenti oltre 40 stazioni ferroviarie e numerosi terminal dei bus.